E non mi sembra questo il caso. Io cerco di parlare, ma voglio essere rispettato. La butta in cacciara a tu. Calma, eh. No, calma tu. In cacciara, lo dice a tua nonna. In cacciara non posso dire, la butta in cacciara a tu. Dai, dai, dai. Fermate questo signore qua. No, questa signora qui dice cacciara a sua nonna. Oh, bello mio, vai. Bella mia, ma chi riniesi? Ma chi sei tu? Lubacca, chi sei tu? Ma chi sei tu? Lubacca da. Capra. 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 Basta, basta. Allora. Noi abbiamo scelto di entrare nell'euro. Nessuno ci ha obbligato ad entrare nell'euro. È stata una decisione che ha preso l'Italia. No, i politici italiani. Io non l'ho presa. L'ha presa Ciampi, l'ha presa Prodi e vaffanculo. Ciampi e Prodi. Vaffanculo. Non l'ho presa io. Non l'abbiamo presa. Non c'è stato un referendum. No, perché? Non è che sentiamo che l'ho presa io. No, ok. Io ero in Parlamento e non l'ho votato nulla. I italiani hanno avuto tempo. Hanno fatto un referendum, forse. Ma che cazzo dici? Sgarbi, dai. Ciampi e Prodi. Sgarbi, dai, Vittorio, però. Sono due, un banchiere che guadagna. Ma l'abbiamo capito. Ciampi guadagna 50 milioni al mese. Va bene. No, perché dico, io sono italiano e non mi rispecchio della sua ricostruzione. Ho capito, ma però me la fai sentire, però. Parla di me, fornita, non sono italiano, no. Parla di me. Ma me la fai sentire, però. Dici che usile la politica italiana di centro-sinistra, Ciampi e Prodi, è entrata nell'euro. Questo lo ascolto. Va bene. E anche Berlusconi, se me ne frega un cazzo, anche di Berlusconi. Cerca il consenso, l'applauso. Ma non voglio consenso, non sono candidato. Ho capito, Sgarbi, Vittorio. Hai detto gli italiani, io sono italiano, vai a casa, non rompere i coglioni. Io non getto fumo, tu lo getti. Vittorio, stai mandando a quel paese in mezzo a Italia. Ma non me ne porta un cazzo di mezzo a Italia, di un quarto d'Italia. Ho capito, ma non può parlare di me che butto fumo. In democrazia credo che si possa esprimere il proprio pensiero. Dai. Ma non hai un pensiero. Andiamo dritti al punto. Andiamo dritti al punto. Allora, gli italiani hanno avuto tanti anni per poter dire che non sono d'accordo con l'euro. Ma a chi lo diceva? Ma dove? Ma con chi? Ma a chi? Ma che cazzo dici? Non farei italiani, parla della politica italiana. Mi chiedono tre euro di un ghiacciolo a Savelletri in Puglia. Da quel momento ho capito che l'euro è una merda. Prova a dare la mancia a uno di 0,50 centesimi. Ti sputa dietro. Devi dargli due euro. Quattro mila lire. Ma che cazzo è? Che mondo è? Quello in cui io devo dare quattro mila lire di mancia? Dici cosa costava un giornale quando eravamo ragazzi. Il tuo giornale costerà duemila quattrocento lire. Ma che cazzo sono? E' di carta di merda. Non le voglio pagare. Costava duecento lire. Allora, eh... Lo dico come persona, non come parte di partito. Non me ne frega niente. Non è uno specchio, anche se ne ha la forma. Non è luminoso, anche se potrebbe esserlo. È una lente. Una lente per vedere da vicino gli stronzi. L'Edoare è venuta già a Puglia. Ti conoscevo già. Io ti ho conosciuto quella sera insieme a Dele Noir. Poi sei una donna, non hai il cazzo e sei una santa. Mi vergoglio, ho sbagliato. Ho visto un altro. Perché parli in questo modo? Sei bello della Mussolini? Perché parli in questo modo? Perché stai dicendo... Può o no? Perché gli fai chiacchiare? Può o no? Porca puttana. Non so che cazzo sia lei. Sgarbi, no, io devo capirlo. Perché può dire qualsiasi nefandezza da quella bocca non viene escluso da nessuna parte. Questa cretina? Chi è questa cretina? Sei una povera cretina? Una povera cretina? Una povera cretina? Io ho detto una cosa logica e tu dici soltanto sei un'occa starnazzante. Ti dici cretinate. Sto parlando io, occa. Mario, aspetta, ciao, esci da qua. Io ne ve l'ho fatta. No, io non vado via di qua. E voi vada a fare il culo? Ma penso a voi la me... Vittorio, ti prego... Vittorio che? Ti prego di andare via. Ti prego di non insultare, di non andare via. Ti vuoi insultare? No. Calmati, ma calmati tu, imbecille. Calmati tu, perché ti prenda. Caccia di culo, pezzo di merda. Pezzo di merda. Faccia di culo. Testa di cazzo. Vorrei che lei accettasse l'opinione degli altri invece di insultare. Io non so che sia lei, so che lei non ragiona, lei sragiona. Va bene, normalmente sragiona. Ho un certificato medico, come dicevo. Sì, ma l'ho letto, non le impone di non avere la mascherina in aula. Ma non riesco a parlare. Deve mettere la mascherina. E lei è un fascista? Ma non sto giudicando, ovunque, certamente lei non può ostentare troppa intelligenza perché non ce l'ha. Io ho contestato. E questo è arrogante. Io sono amico di Briatore. Ma lo vede che non ha la sua le parole. Aspettate poi. Lei dice delle cose imprecise. Ma sgarbi, ma tutti, eh. La smettere di dire che mi ha fatto. No, sgarbi, scusate un attimo. Lei, come ho detto che non ce l'ho fatto, ho discusso. Le pare e la manca delle toglie. Ma lei, che cazzo è? Ma dove l'hanno trovata? Che cervello, la gallina. Dove l'hanno trovata? Ma io non sono nessuno, grazie al cielo. Ho anche dicevo, ho aspettato un attimo di criatore sulla Puglia. Lei è una gallina. Lei è una gallina. Lei è una gallina. Lei si è rilevato per quello che è. Un maleducato. Perché lei mi ha dato della maleducata. Sono un maleducato e lei è una stronza. No, Vittorio! Vittorio! Non dire però là! Non dire però là! Barbara, ma non mi dico me! Non ti fa sentire una deficiente che dice insensatezze. Lei ce la su con le donne? Lo so con lei, sì. Lei ce la su con le donne perché non può trattare con queste persone. Io non sono contenta che ce l'abbia con loro. Eh, papà! Le ragazze, le ragazze, le ragazze, le ragazze, le ragazze. Lei rischia di essere più niente che stronze. Ecco, bene. E' stato così. Facciamo uno sforzo tutti e tutti. Cosa faccio? Lo prendo a pedale in cura. No, 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 no. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore. Mi seguite dai stronza. Allora, deve stare attento. Luca, non si può accettare questo comportamento. Non si può accettare il tuo comportamento? No, ma veramente. E tu hai cattato i quotidiani. No, io sono stata. E tu hai cattato i quotidiani. E tu hai cattato i quotidiani. E tu hai cattato i quotidiani. Io vorrei che mi dicesse questo signore che conosco e che non dovrebbe essere qua, ma vuole essere qua lo stesso, che dica cosa io non ho, non è che tu sorrida con questo sorrisino, e devi dire che cosa io non ho fatto come politico per avere una maschera. Quali sarebbero i danni che io ho fatto? Tu sai chi ha vincolato il Porto Vecchio di Trieste, chi ha recuperato il Petruzzelli, chi ha recuperato Piazza Armerina. Vuoi parlare di io, io e non tu, capra ignorante, ignorante e bestia, falsario, questo sei. E vai pure a casa, invece di mentire. Io l'ho fatto, io l'ho fatto. Parla di cose. No, tu non ce li hai. Hai quel sorrisino idiota. Tu non ce l'hai. Parla di quello che ho fatto e non di quello che non ho fatto. In mancanza di argomento, siamo alla recita. Quello sei tu. No, nessuna recita. Tu non fai accuse senza sapere nulla. Chiaro o no? Io accuso chi mi pare. Tu accusi, no, tu accusi. Se ho ragione, se dico la verità. No, non dici la verità. Tu dici solo delle bugie. Tu dici delle bugie. E parli solo di morti. Perché ti servono i morti per far figgere di essere vivo. E vai a cagare. Questo devi fare. E fa parte della casta. Ma quale casta? Della casta politica. Parola che usi tu. E siccome vuoi tornare. Casta di che? Non devo tornare da nessuna parte. E siccome vuoi tornare ad avere uno stipendio senza lavorare. Ritorna a candidarsi. Perché ti pagano per quello che non sai fare. Comunque. Perché ti pagano per quello che non sai fare. Capra. Quello sei. D'altra parte non è la prima volta che prende lo stipendio senza lavorare. Perché da professore. Mai preso stipendio. Mai preso stipendio. Parli di una cosa che non sai. Ignorante. Da professore. Non ha fatto nessuno stipendio. E non c'è nessun stipendio. Parli di cosa che non sai. Capra. Da professore è stato condannato perché non andava a lavorare. Non è vero. Non è vero stipendio. Altra balla che racconti tu è il tuo giornale di merda. Merda come te. Quello sei tu. Un pezzo di merda. Ma un cagato. Ma sai. Quello sei tu. Chi vede. Merda seca. Ma capire la differenza. Chi urla e chi dice la verità. Tu sono disegno di superiorità. Maremma, maiala. Solo paura. Non è vero stipendio. Non è vero stipendio.